Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 125. All'età di 11 anni, A-in viveva a Hong Kong con suo padre. In quegli anni entrò in una gang ed iniziò a drogarsi. Con i ragazzi della gang viveva, rubava, combatteva e assumeva eroina. A 14 anni fu sorpreso in una rapina. Lo arrestarono e per la prima volta finì in carcere. Aveva provato di tutto per cercare di liberarsi dalla droga. Ma nulla sembrava funzionare con lui. Un giorno incontrò Jackie Pullinger. Attraverso la sua preghiera e il potere di Gesù, venne liberato dalla droga senza alcuna sofferenza. Io e Pippa incontrammo A-in a Hong Kong in occasione di un incontro con Jackie Pullinger. Da allora è diventato uno dei collaboratori e leader di Jackie. Ha insegnato a molte persone a pregare per i malati e a lavorare con i poveri. A-in è tra i tanti milioni di persone che Gesù ha liberato dalle dipendenze. Dopo la sua liberazione, ha trascorso il resto della sua vita a parlare di Gesù Salvatore che ci libera sempre. Commento ai sapienziali Fidarsi di Dio che ci libererà La paura è una sensazione opprimente. Davide teme per la sua vita. Ha scoperto che la risposta alla paura è la fiducia in Dio. Viene catturato dai filistei a Gat. Un'esperienza terribile. Viene perseguitato e combattuto. Eppure, in mezzo a tutto questo, confida in Dio. Nell'ora della paura, io in te confido. In Dio, di cui lodo la parola. In Dio confido. Non avrò timore. Ci sono momenti nella vita in cui veniamo attaccati. A volte sono attacchi spirituali, altre volte attacchi da parte di altre persone. Qualunque sia la causa della nostra paura, siamo invitati a fare come Davide, a riporre la nostra fiducia in Dio. In Dio confido. Non avrò timore. Questo Salmo si conclude con una nota di trionfo e di liberazione. Hai liberato la mia vita. Davide ringrazia Dio per averlo liberato. Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto. Ti renderò azioni di grazie perché hai liberato la mia vita dalla morte. I miei piedi dalla caduta, per camminare davanti a Dio nella luce dei viventi. Signore, grazie per le molte volte nella nostra vita in cui abbiamo avuto paura, ti abbiamo chiesto aiuto e tu ci hai liberati. Oggi ti chiediamo aiuto e confidiamo in te per ricevere liberazione. Commento al Nuovo Testamento Testimoniare il Salvatore Ogni cristiano ha una storia da raccontare, una testimonianza da condividere. Il modo più potente per trasmettere il messaggio di Gesù è raccontare la propria storia. Quando le persone ascoltano la nostra storia, come quella della donna in questo racconto, sono molto più curiose ed è più facile invitarle a venire a vedere. Grazie alla testimonianza della Samaritana, molte persone di un intero paese iniziano a credere che Gesù è veramente il Salvatore del mondo. Trasformata dal suo incontro con Gesù, la Samaritana inizia immediatamente a testimoniare del suo Salvatore. Torna al suo villaggio e dice alla gente Nelle testimonianze vi è davvero un grande potere. Questa donna non ha formazione teologica e nemmeno conoscenza di dottrina cristiana. Neppure lei è del tutto convinta di Gesù. Non dice con grande convinzione Gesù è il Cristo, ma che sia lui il Cristo. Eppure Dio la usa potentemente per l'evangelizzazione. La sua testimonianza è molto simile a quella di molte persone ad Alfa. Alla fine di Alfa, molte persone non sono nemmeno sicure di ciò che hanno scoperto, ma parlano in modo potente di Dio attraverso la loro testimonianza, invitando i loro amici al corso successivo. Tutto quello che sanno è che Gesù in qualche modo si è rivelato a loro. Hanno sperimentato una sorta di liberazione dal vuoto del proprio modo di vivere. Ai propri amici dicono Venite a vedere. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna. Gesù cambia la sua vita. Come Gesù aveva promesso, le acque della vita iniziano a sgorgare da lei. Le persone rimangono stupite e sbalordite della sua trasformazione. E così vengono e vedono e ascoltano la parola di Gesù. Alla donna dicono Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Sia l'insegnamento di Gesù che la testimonianza su Gesù indicano con forza l'identità di Salvatore del mondo. Gesù dice Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Con l'esempio del suo ministero mostra che la nostra fame spirituale, il nostro senso di vuoto e di mancanza di scopo possono essere soddisfatti solo facendo la volontà di Dio. Non c'è nulla di più appagante del fare la volontà di Dio. Essere dove Lui vuole che siamo e fare ciò che Lui vuole che facciamo. Gesù dice Ecco, io vi dico alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Questo è esattamente ciò che avviene con la venuta di Gesù. I discepoli riconoscono che è proprio questo il momento in cui è necessario per le persone conoscere il messaggio di Gesù. Gesù dice Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Questo riguarda soprattutto l'avvenuta di Gesù ma vale anche per le molte altre situazioni e contesti. Nella nostra chiesa di HTB Holy Trinity Brompton, ad esempio sento che con Alpha stiamo raccogliendo ora ciò che altri hanno seminato. Per molti anni le persone hanno pregato per un'effusione dello Spirito Santo Molti hanno lavorato duramente nello sviluppo di Alpha Ora raccogliamo ciò che altri hanno seminato Ora seminiamo perché altri in futuro possano raccogliere Signore Ti prego di usare la mia testimonianza di vita perché molti altri possano credere in Te Commento all'Antico Testamento Grazie Dio per il dono di leader Hai mai sentito la tua fede vacillare? Le persone oggi vivono sfide molto difficili Ad esempio la recente pandemia sfide al lavoro relazioni difficili tentazioni problemi di salute le problematiche internazionali Il popolo di Dio si trova spesso ad affrontare delle prove ma in tutto questo in mezzo a queste sfide cerca di reagire In questo brano troviamo uno schema ricorrente in tutto il libro dei giudici 1. Disobbedienza Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri Dopo di essa ne sorse un'altra che non aveva conosciuto il Signore nell'opera che aveva compiuto in favore di Israele Abbandonarono il Signore e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti 2. Disastro Dio acconsente che il suo popolo vada incontro al disastro perché possa tornare a lui il Signore li mise in mano a predatori li vendette ai nemici 3. Angoscia Un disastro che riduce il popolo all'estremo 4. Liberazione Nel momento più buio il popolo invoca il Signore ed egli per salvarlo fa sorgere giudici La parola giudice in ebraico shofet ha un significato molto ampio può significare anche liberatore chiunque applichi giustizia o metta le cose a posto Il primo di questi liberatori è Otniel Lo spirito del Signore fu su di lui Otniel viene unto dallo spirito di Dio ed è questa unzione che gli permette di liberare il popolo e garantire 40 anni di pace Finiti i 40 anni però il popolo ricade nella disobbedienza e nel disastro e di nuovo dopo un po' ritorna a Dio per invocare un liberatore Qui Dio libera il popolo in un modo incredibile anche se piuttosto spiacevole Eud è un uomo estremamente coraggioso e audace Entra nel territorio nemico da solo con una spada nascosta sotto la veste Un'impresa pazzesca fatta nella consapevolezza che Dio è con lui e ottiene un notevole successo Ancora una volta la terra ritorna alla pace e questa volta per 80 anni A volte Dio usa persone che non fanno parte del popolo di Dio per liberare la sua gente Samgar probabilmente un cananeo è un uomo potente Egli sconfisse 600 filistei con un pungolo da buoi Anche egli salvò Israele Tutti questi leader portano solo una pace temporanea durante tutta la vita del giudice Tutto questo prefigura in modo un po' offuscato e scarno la grande opera di Gesù salvatore del mondo Gesù è il grande liberatore attraverso la sua morte e risurrezione ci ha liberati Lui è il tuo salvatore Lo Spirito Santo ora vive dentro di noi Ci dona potere e sapienza in modo che anche noi possiamo fare la differenza nella nostra vita Signore oggi ti invochiamo chiedendoti la liberazione da tutte le difficoltà i problemi e le paure che dovremo affrontare ti lodiamo e ti ringraziamo per il dono della liberazione attraverso Gesù Cristo nostro salvatore grazie a tutti